Alessandra Ciani, ciao Alessandra, che farà parte quest'oggi della nostra rubrica riguardante lo stile, la moda, l'eleganza e infatti ci parlerà del suo brand. Allora Alessandra parlacene un po'. Allora, è molto semplice, è un lavoro come tanti altri, solo lo faccio con grande passione perché sono ormai 16 anni che porto avanti questo mio brand. Che non ne abbiamo detto il nome tra l'altro. Che è Alessandra Ciani Couture. Benissimo, quindi uno se lo ricorda. Si occupa di moda, di outfit, cerca di creare nella donna con la sua sensualità, con la sua bellezza, con la sua sottorialità del capo che indossa, la sua femminilità. Mi hai detto che capi molto sartoriali, dicevi. Sì, perché vengo dall'alta moda, una scuola che si è sempre dedicata a questo tipo di abbigliamento, molto ricercato, molto curato, soprattutto nei materiali e nelle rifiniture. Infatti chiedevo poco fa ad Alessandra, ma quale fascia d'età comprende? Lei mi ha risposto benissimo, mi ha detto non ha una fascia d'età. Per chi ha voglia di vestirsi bene, con eleganza e in un modo di qualità, diciamo, perché voglio dire, non diciamo vero e proprio, perché come dicevi tu, tu ci tieni a queste lavorazioni particolari, dato che vieni da un'esperienza sartoriale, di formazione. E tu ti trovi in via Santa Croce 5, a Frascati, intanto lo diciamo, ed hai anche un contatto Facebook. In questo contatto Facebook, che è Alessandra Ciani Couture, noi possiamo trovare le varie foto dei immagini, dei capi di abbigliamento? Sì, tutti i giorni vengono aggiornate, cerchiamo di essere ai tempi che corrono questa cosa, che sono un pochino lontani da me, essendo una creativa, la tecnologia è ancora molto lontana, però mi devo adeguare a quelli che sono l'eleganza. Però sognando con ancora quello che è la moda, disegnare abiti di un certo livello, di un certo gusto, che possono essere per la giovane e per la signora che vuole essere comunque sempre elegante. Quindi ti sei aggiornata con i tempi, avendo il Facebook, l'indirizzo, il sito internet, che intanto lo diamo, è www.stileciani.com, tanto poi li rideremo anche in finale, però mantenendo sempre quella tradizione nel vestirsi, quella tradizione nell'eleganza. Ottimo, questo è, l'eleganza per me è proprio sinonimo, non lo so, di bellezza, di raffinatezza, di cose portabili, pratiche, ma sempre con stile, sempre con, anche perché ognuno di noi fa il proprio stile, lo c'è la scelta. Anche tu sei, oggi sei elegantissima. No, grazie Santana, grazie. Si è notato, quindi porti ben alta la bandiera del tuo brand. Ad esempio, quali capi possiamo trovare da te? Guarda, i capi possono essere da quello che è il quotidiano, quindi da il semplice cappottino, il blazer, il pantalone, ok, ad arrivare a quello che è l'abito per tutte noi donne, quello più importante che è per il giorno del matrimonio. Ah, anche l'abito del matrimonio. Sì, sì. Ah, vedi, io questo non lo sapevo, anche l'abito del matrimonio. Quindi c'è proprio da guardare sul sito, bisogna proprio andare a vedere. Sì, 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 anche perché Santana è un vero e proprio brand, nel senso che cura un'immagine completa, sartoriale. Ci tengo sempre a ribadirla questa cosa perché si sta perdendo, siamo diventati troppo commerciali, cioè dal mio punto di vista. Troppo solo vendita. Bravissima. Invece c'è un rapporto umano perché io curo tutte le mie clienti dall'inizio fino alla fine, le mie ragazze sono con me, voglio dire, cercano di fare, proprio con la loro manualità, il capo che vuole la cliente, ok? Prendendo in mano tutto quello che è, le rifiniture, il particolare, il ricamo, il tessuto, la linea, quindi per tirare fuori poi l'abito che poi la signora vuole o la ragazza. Perché anche su richiesta il... Soprattutto su richiesta. Soprattutto su richiesta. Soprattutto su richiesta. Noi soprattutto su richiesta, perché vuole un abito esclusivo. Quindi anche che non sia abito da matrimonio, ma anche se io volessi un abito, un abbigliamento, posso venire da te e richiederlo personalizzato? Sì, certo. Per me proprio. Certo. Fantastica questa cosa. E quindi uno si può già fare un'idea sul sito, ma ancora meglio venire direttamente in negozio. E bella, mi piace questa cosa. Quindi ecco, ecco perché ci tiene alla sartorialità. Ora capisco, sì, che mantieni salda questa cosa del personale, del molto autentico. E poi mi dicevi tu lavori anche molto con l'estero. Beh, sai shortale, purtroppo per noi stilisti l'estero è un posto dove andiamo a prendere idee, spunti. Abbiamo comunque la necessità di incrementare quello che è degli altri verso il nostro paese. E poi l'italiano è famosa all'estero. Sì, è vero. Siamo molto quotati, molto stimati. Però anche da tutte quelle che sono le parti del mondo, noi possiamo prendere stili e riportarlo con il nostro stile. Io lavoro molto con gli Stati Uniti, proprio perché apprezzano la moda italiana, la nostra sartorialità. E loro sono persone pazzesche, nel senso che loro cercano di osare, però osano di un buon gusto. Non sono eccentrici come quelli che si vedono in firma. Ti assicuro a Chantal che veramente hanno l'eleganza anche loro da vendere, perché sono degli intenditori. Scelgono delle cose sempre molto, molto belle. Infatti scelgono da te. Io voglio ricordare tutti i tuoi dati e tutti i contatti per poterti venire a trovare, vedere anche le foto dei tuoi capi d'abbigliamento. Ricordo quindi da Alessandra Ciani Couture troviamo abiti di sartoria eleganti, di buon gusto, come mi dicevi tu. Anche su richiesta, quindi un abito che sia personale, non sia visto da tutti, non è quell'abito che entri nel bar e trovi. Adesso non è usuale, esatto. Adesso è una cosa, come mi dicevi tu, non è una cosa che si fa tutt'oggi. È come creare uno stile nello stile. Esatto, crearti il tuo stile perché lo richiedi, è proprio una cosa a parte. Quindi, allora, il negozio si trova in Via Santa Croce 5 a Frascati. Il sito internet è www.stileciani.com. C'è anche un sito Instagram che è Alessandra Ciani Couture e abbiamo anche il contatto Facebook che è quello tramite il quale riusciremo a vedere tutte le foto insieme al sito internet. Ma il contatto Facebook possiamo anche contattarti per qualunque informazione. Ricordo anche i vestiti da sposa che mi avevi detto. Quindi il contatto Facebook è Alessandra Ciani Couture. Allora, io ti ringrazio Alessandra per essere stata qui con noi e per averci fatto conoscere questo mondo startoriale di eleganza che sposa la tradizione insieme all'innovazione del social, dell'attuale. Bravissima, bravissima Ciocca, l'hai colto in pieno quello che sono. Grazie ancora. Grazie. Grazie.